Antenato dei cani domestici, il lupo è l'animale selvatico che più di altri è da sempre in competizione con l'uomo e le sue attività. Dalla caccia per la selvaggina all'allevamento del bestiame domestico, il lupo cacciatore rappresenta il conflitto con le attività umane, ma anche la fierezza della natura, suscitando nell'uomo ammirazione, fascino e talvolta paura. Come quella che i cittadini di Spoltore si trovano a dover gestire dopo i numerosi avvistamenti di lupi nelle zone periferiche della città, tanto che l'amministratore della sindaca Chiaratrulli ha deciso di organizzare un incontro pubblico nel centro civico di Santa Teresa per spiegare ai cittadini cosa fare in presenza di lupi. Nada di Giandomenico, assessore alle politiche agricole del comune di Spoltore spiega che come amministrazione comunale abbiamo l'obbligo di rispondere a quelle che sono le domande della cittadinanza per cui se si crea un rischio, un pericolo e una paura da parte della collettività noi abbiamo il dovere di rassicurare i cittadini. All'evento organizzato dal comune in collaborazione con il Parco Nazionale della Maiella e il Wildlife Research Center è intervenuto Simone Angelucci responsabile del servizio veterinario del Parco della Maiella. Perché sempre più animali selvatici si spingono nelle zone abitate? Noi abbiamo concesso a loro spazi, aree che non hanno mai avuto negli ultimi secoli. Questo processo di grande cambiamento ecologico è iniziato dopo la seconda guerra mondiale con la grande emigrazione, abbiamo abbandonato molte campagne. Gli animali selvatici per sopravvivere hanno bisogno di spazi e di risorse trofiche, cioè di cibo. Queste risorse le hanno trovate per primi quegli animali che sono prede del lupo, quindi il cinghiale, poi il cervo e il capriolo. I cinghiali si sono spinti ormai nelle zone collinarie e nelle zone periurbane, quindi i lupi che sono animali sociali sono in branchi consolidati, fanno questi gruppi familiari con dei territori molto stabili. Quando nascono i piccoli che crescono, i giovani crescono, vengono allontanati dal branco e i giovani vanno in cerca di fortuna. In territori non ancora occupati dai branchi consolidati, quindi spesso arrivano anche nelle zone collinarie dove ci sono le loro prede, al ridosso delle città. Non sono pericolose, ma a volte possono generare delle interfacce problematiche, per esempio con i cani, con i gatti, perché di fatto stabiliscono il loro territorio. Cosa si deve fare in presenza di animali come i lupi? Non ci sono particolari rischi, dobbiamo considerare che è molto più rischioso per esempio essere affiancati da un cane vagante o da un branco di cani vaganti, però bisogna sempre segnalare in modo che la regione, che ha competenza specifica al di fuori dei parchi o all'interno dei parchi, i tecnici dei parchi, possano monitorare questa situazione. Noi possiamo applicare dei radiocollari, seguirne i movimenti e in alcuni casi, quando ci sono dei comportamenti problematici, gli animali possono essere portati in strutture protette. Mai dare cibo, mai tentare di avvicinarli come per l'orso, mai cercare di inseguirli per fare foto? Esatto, distanziamento ecologico, non sanitario perché non portano malattie, ma gli animali selvatici devono rimanere selvatici, gli uomini devono stare con gli animali domestici. Non si può pensare di addomesticare un lupo? Assolutamente no, c'è una grande differenza tra il cane e il lupo. Il cane si è coevoluto con l'uomo e quindi riconosce l'uomo come un facente parte del proprio gruppo. Il lupo no, il lupo riconosce solo i lupi. Ipotesi, decido di farmi una camminata, mentre corro passeggio mi trovo davanti un lupo. Che faccio? In realtà il lupo non ha un atteggiamento aggressivo nei confronti dell'uomo, ma anzi lo evita, è del tutto indifferente. Quello che c'è da fare è semplicemente andare dritti per la propria strada, non interagire, al limite fare un po' di rumore. È vero che non bisogna mai fissarli negli occhi. I lupi evitano davvero l'uomo, al massimo possono osservare da lontano per curiosità e per sondare la nostra presenza.